Sono andato normalmente al centro di pista con Fiale, a mio avviso uno tra i migliori in campo. Come stai per prima cosa e poi come hai un po' visto la squadra in questa difficile partita qui a Quarrata? No, condizione fisica, devo ancora lavorare, migliorare perché sono stato due settimane fermo, un infortunio che insomma sto cominciando a stare bene ora, però insomma c'è ancora a lavorare. La squadra oggi abbiamo giocato benissimo, l'approccio alla partita è stato ottimale, siamo riusciti a fare subito tre gol in primo tempo e di conseguenza al secondo siamo riusciti a gestirla molto bene, rischiando veramente poco o niente e sono stati tre punti fondamentali. Ecco, anche tu sei arrivato in estate tra i giocatori più di esperienza di questo gruppo, come un chiesto a Fiale, che gruppo hai trovato soprattutto tra i giovani e i cosiddetti vecchi? No, no, un grande gruppo, un gruppo veramente forte, affiatato, un gruppo che ha in testa l'obiettivo di vincere, quindi positivo, sempre positivo, anche dopo la sconfitta, il pareggio col Givizzano in casa, è sempre stato positivo, quindi non posso dire altro. Ecco, come vedi questo duello col Pietrasanta che anche oggi ha vinto all'ultimo minuto? No, bello, bello, lo sapevamo che ci sono squadre organizzate, sono squadre che lotteranno come noi fino alla fine per arrivare primi e si vedrà domenica dopo domenica, noi cercheremo di andare avanti senza guardare gli altri e poi si faranno i conti alla fine. Bene, ringraziamo anche Samuele Barzotti, da Quarrata è tutto, Quarrata 0, Ponzacco 3.